Ciao, sono Margossi Caponi e sono qui per raccontarti la mia esperienza con il metodo Ciappac. Ho incontrato il metodo con un seminario di patrizia ed è stato incredibile fare prova su di me del metodo. Forse per la prima volta da felice ho sentito che il mio pieno potenziale poteva essere reso azione all'interno di una scena. Quello che mi ha dato il metodo che era qualcosa di pratico, di tangibile, su cui io potessi fare affidamento sempre. Il metodo Ciappac per me è stato perfetto perché per la prima volta avevo qualcosa di pratico da utilizzare in un momento di difficoltà e di insicurezza o di stanchezza che funzionava sempre. Il lavoro che ho fatto con patrizia è stato rivelatorio perché non solo capivamo a fondo la scena e capire a fondo quello che andiamo a fare direi che è molto importante, ma capivamo a fondo all'interno della mia esperienza di vita come la mia esperienza potesse entrare e inglobare quella scena lì affinché quelle parole che dicevano non erano parole, erano le mie parole, era la mia esperienza, era la mia scena. Questa sensazione di comprensione totale delle parole del personaggio è stata salvifica, è stata anche da un certo punto di vista terapeutica. Questo da attrice interpretarlo in questo modo è stato incredibile, ma vivere anche con questo nuovo concetto di uscire fuori dal sistema di vittima e riprendersi in mano il proprio potenziale il proprio potere è direi fondamentale per tutti. Il corso lo consiglio a tutti, anche a chi non è attore ma davvero a tutti. Ho lavorato con Patrizia a lungo e non c'era un giorno che finivo il mio lavoro con lei dicendomi che quello che era successo era pura magia. Quello che lei è riuscita a fare per me tutto in servizio della mia arte è stato incredibile e mi sono ritrovata giornate intere sul set nella piena difficoltà di questo lavoro, della stanchezza, degli orari senza fine, anche spesso della solitudine ma con questi strumenti che sostenevano profondamente il mio lavoro e che non ho mai dovuto dubitare ho una bussola e grazie a questo metodo, grazie a Patrizia, io sento di aver in valigia qualcosa di estremamente potente e di cui sono profondamente grata. Grazie